Officina Do Sabor, siamo alla conferenza stampa, tu ci hai ospitato ma sarai anche un protagonista del festival. Sono onorato, dopo un po' di anni di permanenza col vecchio latino americano, sono rientrato facendo allietare le persone che gravitano a Milano con la nostra musica, la nostra allegria. E qui siamo ospiti del locale di Natalia Costa, mia moglie, che è una grande cuoca, ultimamente ha scritto l'ultimo libro sulla cucina brasiliana. Questa bella gente, abbiamo dei consoli meravigliosi, giovani, abbiamo tante belle brasiliane, abbiamo tanta gente che veramente di livello, che onora e arricchisce la nostra clientela. Tanti auguri al Latin Festival. Che cosa ci propone al Milano Latin Festival? A Latin Festival noi avremo tutte le grandi specialità, tutto il beverage brasiliano, tipico come succhi di frutta naturali che arrivano direttamente dal Brasile, delle birre, dei guaranà. E un po' di allegria perché avremo sicuramente delle bellissime clienti che arriveranno e balleranno nella nostra struttura, che si chiama Bar Copacabana. Lucio Finisdeo, ti ringraziamo molto, grazie. Sono onorato. Grazie. Grazie a tutti.